Buongiorno squadra, in questo video molto velocemente ti farò vedere quali sono i pro e i contro di offrire appunto il pagamento con il contrassegno dello store di e-commerce e se vale la pena offrire questo servizio oppure no, quali sono appunto i miei consigli, quali sono i miei non consigli e quello che poi ti farò vedere alla fine, quello che ti consiglio di fare. Prima di cominciare ti ricordo sempre che in descrizione c'è il link per accedere al gruppo Facebook è raduito, quello mio dove sono gli admin, così se è una domanda, un dubbio, direttamente ti posso rispondere direttamente là. Se vuoi lavorare con me vi puoi mandare un mio studio su Instagram o semplicemente entrare nel gruppo e contattarmi tramite Facebook e poi nella sezione playlist lo sai ma c'è molti vari playlist, corsi gratis, corsi gratuiti che ho fatto io che puoi vedere per imparare appunto come lanciare l'auto store di e-commerce gratuitamente senza parare tipo 2.000-3.000 euro in corsi tarocchi. Detto questo possiamo cominciare. Ora focalizziamoci solamente in questa parte ovvero pagamento contro il segno, queste cose lasciamole perché appunto sono altri video che ho fatto, non ci interesso e non te li devi nemmeno sbagliare perché sennò poi non guardo i video quelli che farò dopo, guardiamo solamente questi. Facciamo tre punti generali che ho scritto qua, il primo appunto, prima di tutto è scomodo perché il pagamento contro il segno non te lo consiglio, non ti serve, lo dico subito, non lo devi nemmeno offrire. Tutto perché è scomodo, è scomodo per te perché i soldi arrivano dopo anni, ok, l'antica è appunto, il prodotto arriva al cliente, poi il cliente paga e poi il corriere ti deve mandare i soldi a te. Passano settimane, quindi è scomodo per te appunto per questo perché i soldi li arrivano dopo tanto tempo appunto e ti viene più difficile gestire la contabilità del tuo store. Poi che succede? Succede appunto, che lo dico qua subito, poi facciamo così a caso per andare il più velocemente possibile, effettuare il rimborsio è un casino. Facciamo finta che appunto un cliente ti paga con il contrassegno, ti paga in contanti, vuole effettuare un rimborso, tu gli devi effettuare un rimborso ai suoi confronti, cosa devi fare? Devi contattarlo, devi fare dare appunto la carta di credito, i dati dell'Iban suo, i dati di Paypal e li devi mandare i soldi via Paypal. Quando invece tu hai già la sua carta memorizzata su Stripe, su Shopify, Paypal, se quello che sia, ti basta andare appunto sul tuo cliente e dire rimborsa importo di non so 50 euro, gli ho rimborsi subito in tempo nulla, anche senza fare cose. E appunto è una scomodità, rendi le cose molto più complicate. Per esperienze persone ti posso garantire che uno dei consigli migliori che mi sono stati dati è appunto quello di rendere il tuo business, la tua azienda, il tuo store di commerce più semplice possibile. Perché ti verrà molto più facile, molto più veloce, molto più, sarà un'esperienza migliore proprio lavorare sulla tua azienda, non tanto fare, senza fare tipo cose super complicate, gestire, ah guarda i clienti non pagano e così via. Quindi è scomodo. Scomodo per te, come abbiamo detto, è scomodo per il cliente perché appunto il cliente deve avere ritardi per ricevere un rimborso, perché appunto il rimborso non lo riceverà subito, lo riceverà dopo un paio di giorni, dopo magari anche una settimana. E poi è scomodo pure per il cliente appunto perché deve avere sempre i soldi contati da dare a corriere e corriere non è d'arresto. E' scomodo anche per il corriere perché il corriere dice, ah poi magari devo aspettare che quello non mi dà i soldi se poi a lui non lo posso consegnare, non lo posso consegnare al suo vicino quando viene a casa. È un casino per tutti, a nessuno piace il contrassegno. Una domanda frequente che di solito sorge a questo punto è, sì ma la gente senza contrassegno non compra. Non è vero questa cosa, se siamo nel 2010, ok allora forse è vero, ancora c'è questa paura in Italia, nel 2010 sto parlando, c'era questa paura di comprare la carta di credito online perché magari te la rubavano. Forse era vero, forse non era vero, forse appunto non lo so. Oggi questa paura si è un pochettino sdoganata, anzi si è quasi al tutto sdoganata perché appunto con Amazon, su Amazon se ci fai caso non possiamo pagare né con PayPal né con contrassegno. Solamente con la carta, eppure compriamo tutti i giorni su Amazon, un sacco di soldi spegniamo su Amazon, tutti. Oppure tutti i vari siti come Spotify, come Netflix, paghiamo con la carta, non paghiamo né con il contrassegno né con PayPal. Quindi quando una cosa la vogliamo per davvero la compriamo senza nessun problema. E appunto è, diciamo, la paura, come dicevo, se è sdoganata, ormai non c'è più paura questa di pagare con la carta di credito perché te la rubano. Cioè, magari chi ha ancora questa paura dice, vabbè, se c'è il contrassegno pago il contrassegno, però se non c'è la compro ugualmente con la carta. Invece dicevano prima, no, no, solamente il contrassegno con la carta la facciamo. Cioè non si fanno più problemi. Fai conto pure mia madre ora compra online con la carta, quindi che mia mamma è una di quelle appunto aveva sempre paura e cosa del genere. Quindi ormai diciamo questa cosa è sdoganata. C'è un sacco di persone anziane pure, che diciamo sono quelle più, più, che appunto arrivano dopo sulla tecnologia, che appunto comprano online. Quindi non ti preoccupare da questo punto di vista, ormai comprano tutti con la carta e anche senza Paypal. Quindi detto questo, per rendere tutte le cose molto più semplici, per rendere la tua azienda più semplice, la tua contabilità più semplice e per dare un'esperienza migliore ai tuoi clienti, io non ti consiglio assolutamente di mettere appunto il contrassegno, offrire il contrassegno come metodo di pagamento. Offri solamente le carte. Nemmeno Paypal, l'ho detto in un altro video, Paypal è pure un altro step per rendere ancora le cose ancora più complicate. Ma c'è il tuo offri solamente le carte. Semplice, un solo coso, per te è più facile gestire tutto perché tutte le cose su Stripe, tutte le cose su Shopify Payments. Quindi è tutto molto più semplice, tutto molto più veloce ed è molto più bello a gestire appunto la tua contabilità e la parte finanziaria. Detto questo, spero che sia dovuto in questo video veloce. Ti ricordo sempre in descrizione c'è tutti i vari link. Se vuoi parlare con me, se vuoi appunto contattarmi per un lavoro, mi puoi mandare un messaggio su Instagram. Cerco di rispondere sempre a tutti e poi basta e poi basta. Iscriviti se ti è piaciuto il video, metti mi piace, lasciami un commento qui sotto appunto dicendomi appunto insulti e cose del genere. Tanto sono sempre uguali i commenti che appunto mandano il video virale. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye. Ciao.